La chiesa di San Francesco sorge sul luogo di un più antico edificio di culto costruito per volere del Vescovo Neone. Qui nel 1321 furono celebrate l'esequio di Dante. La chiesa fu più volte rimaneggiata. Della basilica medioevale rimane la cripta. La chiesa fu più volte rimane la cripta. La chiesa fu più volte rimane la cripta.